Musica 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 Sono Nari Tini e vivo a Firenze, sintonamente sul Club of Travel. Musica 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 Noma 30 Musica Asscrew Assedom Ass escaping internal Ass Taiwanese Assalid Assillions Am lass Buongiorno a tutti, sono Gianna Boconaki e vi faccio la più analizzazione del Club of Travel. Io ho Giannis e ho chiesto di fare qualcosa di più. Salute! Buonsoir! Mi sono Meli. Mi sono Elanie. Ci siamo a Parigi, a Canal Saint-Martin. C'è chiede! E noi ci vediamo la vita! Rendez-vi a... A Cap of Travel! C'è chiede! Salute! C'è Cartoon Dandy. E io sono a Parigi. Puoi leggere la mia interview su A Cap of Travel. A Cap of Travel! A Cap of Travel! A Cap of Travel! No one gets me Like you get me I will love you If you'll let me I bet you're sick of trying to guess what I be When I say it's no, it's no, maybe Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.